Ecco, ecco qua. Allora, siamo nella stanza di Pirazzi e Sottoli. Guardate lo signore, ed ecco, in azione, Stefano Pirazzi. Ecco, il suo segreto per stringere il 53, 21, 19, quello che sia, al campionato italiano del 53, sotto e sotto la stanza, già è finito per sotto. Eh, va bene, io sono le 23, Stefano è distrutto, stamattina è stata 4 ore, ha provato la pronoscolata internazionale, sta dicendo porca Dio. Adesso. Giordini, Pina. Sì, Italia 1. Italia 1. Ciao ragazzi.